A Palermo arriva il Festival della Narrazione, nostro ospite l'attore e regista Salvo Piparo. Buongiorno e benvenuto Salvo. Buongiorno. Eccoci qua, direttore artistico dell'evento in scena ai Cantieri Culturali della Gisa dal 20 al 30 dicembre. Un bell'impegno nel periodo natalizio, il proverbio direbbe Natale con i tuoi. Natale con i tuoi e infatti ci riappropriamo dei nostri narratori della città e non solo, che sono anche scrittori, che sono giornalisti, che sono oratori. E possiamo dare voce ad Omero. Omero che si narra essere il cieco per Antonomasia e nella terra di Chio poetava. Ed ecco che così lui riusciva ad andare oltre le pietre di Chio e i suoi racconti sono andati oltre mare. E questo facciamo noi. I dieci narratori e narratrici che sono stati dunque raccolti in questa rassegna, questo faranno. Cercheremo di andare oltre questo tempo miope, con delle storie anche antiche ma attuali, attualissime. Filippo Luna racconterà Agamennone, per esempio, un Agamennone molto attuale. Daniele Biliteri racconterà la palermitanitudine. L'Homo panormitanus, vent'anni dopo, con l'attualità della pandemia. L'Ello Analfino, istrionico, racconterà la musicalità della lingua siciliana. Davide Nia racconterà gli anni Ottanta della mafia. Ed ancora Egle Mazzamuto farà un omaggio al poeta di Palermo, Franco Scaldati, elegie di quartiere. Poi abbiamo Pietrangelo Buttafuoco che racconterà l'Islam. Un programma intenso, tra l'altro anche il titolo Aedi Storytelling. Aedi erano gli antichi cantori, no? Gli antichi cantori, poi c'è un Aedo anche in Sicilia che è il Cuntastoria. Di qui poi Salvo Pipare, diciamo che è un'erede. In chiusura, rapidamente, 20 secondi per gli auguri a modo tuo. Beh, io non posso che augurare i migliori auguri di Natale a tutte le case della nostra terra. E questo è il bello della diretta. Il bello della diretta è lui, il bello della diretta sono io che in questo momento penso che non ci possono essere che parole semplici per dire cari siciliani, cercate di stare bene, più che potete. Assolutamente, grazie mille a Salvo Piparo, buona giornata, buon lavoro, in bocca al lupo.